E' un pensare da comprare, per fortuna mi ha aiutato la mia assia e credere da trovare, per fortuna ci ha pensato un'agenzia mi sa bene e mi piantì e mi spena anche al soffì me va bene, me va bene, ho capito, sono convito E' un appartamento, un bel appartamento, ne avrò verrà tre quadretze siccome il sol è un valore niente, ho una fede, investimento E' un appartamento, credere, sta appartamento senza la fine, senza essere, e lo vuoi comprare e senta di che, se vuoi te aspettare, insieme a te la zona per te Grazie